Dopo due anni di chiusura del Dipartimento Materno Infantile dell'Ospedale San Salvatore di Pesaro, la riapertura del reparto torna sul tavolo del prossimo Consiglio regionale di martedì. A portarcelo un'interrogazione dei consiglieri del PD Andrea Biancani e Michela Vitri alla luce della forte diminuzione dei contagi di un imminente 31 marzo che è stato collocato come data di uscita dall'emergenza pandemica e anche in considerazione di una mozione che un anno fa fu approvata all'unanimità dal Consiglio regionale, maggioranza compresa. Nel 2021 appena trascorso, eccezione fatta per le 60 gravidanze di mamme con patologie covid, non ci sono state nascite a Pesaro con l'intero Dipartimento Materno Infantile trasferito per il secondo anno al Santa Croce di Fano e con tante partorienti che hanno preferito scegliere altri ospedali, Urbino ma soprattutto Rimini. In questi anni è aumentata di molto la mobilità passiva, solo tra i dati dicono che solo tra il 2021 e il 2020 c'è stato un aumento di circa il 20%, infatti si è passato da 170 a 200 parti che vengono fatte al fuori del nostro territorio regionale. In gran parte le mamme decidono di andare a partorire all'ospedale di Rimini e questo da una parte è anche un disagio e anche fare tutte le visite sia prima che dopo il parto a Rimini, vuol dire comunque spostarsi, ma soprattutto è anche un costo, ogni persona che decide di partorire fuori dal territorio regionale alla sanità regionale costa e solo per questi 200 parti comunque il costo anno è di circa 250 mila euro all'anno. Quindi io, quello che chiediamo insieme alla consigliera Vitri, ma devo dire che è una richiesta che viene dall'intero consiglio regionale sia dalla maggioranza che dall'opposizione, sono stati presentati atti sia dal sottoscritto ma anche da altri consiglieri regionali e ritengo che questa sia una priorità e che vada ripristinato quanto prima, appunto sia il punto nascita, sia i vari reparti e anche ovviamente il pronto soccorso pediatrico. La città di Pesaro è la seconda città delle Marche, all'ospedale di Pesaro fanno riferimento oltre 130-140 mila persone e penso che sia l'unico caso in Italia di un coproduogo di provincia che non ha all'interno del proprio ospedale un dipartimento materno infantile. Grazie a tutti.